Eeeh, professore, sono svilita, sono svuotata, sono debilitata, sono logorata, eeeh, sono esaurita, netta, capito? Semplice, servono fosforo, omega 3, vitamine e calcio, sughi pronti pesce azzurro. Amplissima scelta. Eeeh, sughi del pesce azzurro, dopo io ci faccio la scarpetta, sono sempre ciuccia uncia, ciuccia impazzacata. Ristoranti pesce azzurro, mangiare sano per vivere meglio. Ristoranti pesce azzurro.